Family Pizza, la pizza ad alta digeribilità adatta a tutte le famiglie. La migliore farina è la Cangen Water, acqua alcalina pura e ricca di idrogeno, si uniscono in un impasto speciale con 48 ore di lievitazione. Usiamo materie prime locali ma anche specialità di altre regioni per garantire un prodotto di qualità. Tante farciture per soddisfare i vostri gusti. Pizza al taglio, al piatto, da asporto e a domicilio, anche in spiaggia. Family Pizza, la pizza ad alta digeribilità adatta a tutte le famiglie.